Benvenuti alla resegna stampa del mattino, occhio ai giornali che si apre come sempre in diretta alle 7 nella nostra programmazione quotidiana, un saluto anche a coloro che ci seguono durante il corso della giornata sia in televisione, vi ricordo che l'ultima replica andrà in onda alle 13.30 sul canale 17 di Fanotv poi naturalmente sempre disponibile su Youtube così come su Facebook Allora andiamo a vedere il santo di oggi, è San Callisto, primo il sole sorgerà alle 7.21 e tramonterà alle 18.27 Uno sguardo al tempo, ieri ci abbiamo preso soltanto un'oretta di ritardo detto alle 13 invece qua nella nostra città a Fano ha iniziato a piovere e abbondantemente come vedremo intorno alle 14, 14.15 quindi abbiamo sbagliato di un'oretta Vediamo le previsioni per oggi, allora oggi giovedì 14 cielo sereno sulla regione con qualche nuvola nell'entroterra così anche per la giornata di domani attenzione al vento oggi e sabato lo stesso cielo sereno poco nuvoloso temperature più o meno nella norma Allora intanto a proposito di maltempo ecco la bomba d'acqua che c'è stata ieri a Fano e il risultato è sintetizzato in questa fotografia eloquente che riguarda uno dei punti critici della città di Fano ovvero il sottopasso del Lido siamo nella zona Lido di Fano nella zona mare per chi non è della città bomba d'acqua soccorsi al Lido ancora allagamenti mentre il titolo d'apertura Green Pass Task Force in farmacia la proposta all'incontro che c'è stato ieri in prefettura a Pesaro di mettere infermieri a sostegno della mola dei tamponi però c'è il nodo dei costi come avete sentito ieri se avete seguito il telegiornale dell'assessore regionale al lavoro che diceva sì possiamo anche spostare gli infermieri chiedere agli infermieri di Asur di andare in farmacia a dar manforte ai farmacisti però poi il titolare della farmacia è lui che deve pagare quelli dell'Asur per appunto questo aiuto insomma non è un gran che trasporti scolastici un altro nodo importante domani l'assessore Castelli abbiamo fatto il massimo ma temo qualche disagio a essere ottimisti ma comunque sono due su dieci lo vedremo tra un istante interessante i marchigiani in età di lavoro senza il vaccino poi in breve trova un bancomat a Pesaro e svuota il conto andando al centro estetico poi un'inquilina che non paga ma per decreto non si può cacciare per decreto si può fare tutto imporre qualsiasi cosa alle persone per bene ma quelli che invece fanno i furbi e non pagano per esempio l'affitto da sempre no, quelli non si possono cacciare per decreto bisogna che stai lì un diciottenne invece pestato a sangue in pieno centro a Cagli la stoccata di Valentina Verzali per l'impianto a Torraccia di Pesaro dallo Stato fondi per 800 mila euro al comune di Pesaro per realizzare la prima pista ciclorotellistica e poi Montelabate oggi consegnerà la cittadinanza onoraria a Walter Scavolini andiamo a vedere velocemente anche il carino di Pesaro la prima pagina tamponi ora c'è l'assalto corsa ai test per il Green Pass di domani guida le farmacie ancora disponibili tra l'altro c'era una foto che ieri mi era arrivata a una certa ora dove in una farmacia di Pesaro c'era la fila fuori dico vabbè faceva effetto effettivamente a una certa ora vedere tutta questa gente era già notte insomma in fila in farmacia fuori ma la domanda è quanto può durare quanto può durare una situazione del genere intanto vaccini ed esenzioni troppi furbetti boom di richieste per evitare il siero poi studente picchiato a sangue da sconosciuti armati di mazze lesioni gravi operato d'urgenza mistero mistero totale sul movente poi anche qui in prima la rabbia dei residenti a Lido bomba d'acqua a Lido di Fano diventa il Lido diventa uno stagno ha lagato anche l'asilo poi c'è il caso di questa avvocatessa del comune Mariangela Bressanelli che lavorerà gratis per un anno e poi un poliziotto che in pieno centro a Pesaro blocca un troffatore mentre spillava soldi ad anziani e sotto il Benelli lo stadio di Pesaro praticamente due tribune ai Cesenati ma lo stadio sarà quasi tutto pieno mentre il basket VL con Tortona è già match vitale subito in primo piano allora è curioso avere lo facciamo attraverso il Corriere Adriatico questa mattina i dati di quanti sono i marchigiani in età lavorativa che non sono vaccinati quindi potenzialmente persone che domani non potrebbero andare al lavoro a meno che non non si facciano il tampone andiamo a vedere questo questo riquadro interessante che ci dà un po' il senso delle cose allora intanto all'occhio balza subito questo dato che è il 26,9% ovvero 39.334 giovani perché parliamo di persone che hanno un'età dai 20 ai 29 anni che non si sono vaccinati su un target totale di 145.997 chiaramente la maggior parte di questi ragazzi si è vaccinato 106.663 però c'è ecco questo zoccolo duro che è 39.334 persone che tra i 20 ai 29 anni domani vedremo come si comporteranno se faranno il il tampone e quindi si presenteranno al lavoro oppure no poi a scendere su questa su questa linea vedete qua ecco poi il totale qua sotto ci sono tutti gli altri con le fasce d'età spostate vedete sulla sinistra in totale ci sono 193.330 marchigiani non vaccinati pari al 20,1% insomma chiaramente i numeri sono tutti spostati a favore di chi ha deciso di vaccinarsi nel senso che i vaccinati in età lavorativa sono 766.140 su una platea di 959.470 però i non vaccinati insomma sono 190 quasi 200.000 marchigiani in età lavorativa il titolo invece è due lavoratori su dieci senza vaccino così parte la scommessa di domani impennata di prenotazioni nelle farmacie per svolgere tamponi molecolari questa invece a pagina 3 e qui vi invito a prestare attenzione il Corriere Adriatico questa mattina dà voce a due persone che sono contrarie al vaccino una la conosciamo perché i telespettatori la conoscono perché l'abbiamo anche intervistata è di Fano e l'abbiamo intervistata nei giorni scorsi nel nostro telegiornale stiamo parlando di Matteo Giuliani di Fano che si è dimesso dal Consiglio Comunale per protesta allora lui dice l'Italia obbliga solo il mio l'Italia obbliga solo il mio unico faro è il Consiglio d'Europa eccolo qua Matteo Giuliani in questa fotografia che dice ancora il Green Pass serve a coartare la volontà della gente mentre l'altra ecco intervista che ha realizzato adesso voglio dire ecco Massimiliano Viti del Corriere Adriatico è un'intervista molto interessante allora il titolo Io intubato e Novax secondo me qualcosa in Italia non quadra Gianni Santini stiamo parlando di lui è stato dimesso il 3 ottobre dall'ospedale di Fermo andiamo a leggere Gianni Santini 55 anni è un dipendente della UP Light di Monte Giorgio lo scorso 2 ottobre è stato dimesso dall'ospedale di Fermo dove era stato ricoverato un mese prima per le conseguenze del Covid non era vaccinato oggi difende la sua scelta ci racconta in breve la sua storia ecco la storia lui dice non mi ero vaccinato e sono stato contagiato la situazione è precipitata e sono stato in ospedale un mese nel corso del quale sono stato intubato per 4 giorni sono stato dimesso il 2 ottobre scorso e sono ancora in convalescenza la domanda è che cosa le ha insegnato il mese in ospedale la risposta con me c'era anche gente vaccinata per cui quando ad aprile 2022 mi scadrà il Green Pass non credo mi vaccinerò è così convinto lui risponde è la mia è la mia idea tratta da esperienze personali e familiari dalle informazioni dei media dai pareri dei medici che ho che ascolto il vaccino non copre il 100% la variante delta in definitiva vedo che qualcosa non quadra in Italia e poi dico che dovrebbe vaccinarsi solo chi non ha anticorpi a sufficienza per chiarezza ammettiamo che se non si fosse contagiato oggi lei non si sarebbe vaccinato lui risponde no e come avrebbe fatto con il lavoro se quando mi scadrà il Green Pass la situazione normativa sarà la stessa andrò avanti con i tamponi poi vi lascio ovviamente non ve lo leggo tutto e quindi questo per dire ecco solitamente quando uno finisce in terapia intensiva e finisce intubato poi si legge e lo mettono a quattro colonne il pentimento sui ceci di chi appunto è stato lì la vista brutta così come la vista brutta Santini che però risponde risponde in questo in questo modo non c'è molto da commentare io mi astengo dal commento l'abbiamo sentito e l'avete l'avete letto insieme a me ora ho voluto mettere invece in contrapposizione quindi a pagina 11 saltando per un attimo l'argomento green pass che tornerà la pagina successiva questa notizia pagina 11 del Corriere Adriatico già un'anticipazione ve l'ho data nella nell'editura della prima pagina l'inquilina amorosa non ha mai pagato cioè l'inquilina che non ha mai pagato il l'affitto sentite un po' per decreto non può essere sfrattata non può essere mandata via sta lì tranquilla l'anziana titolare dell'immobile ha proceduto per vie legali ma l'abitazione è ancora occupata anche qui non c'è molto da aggiungere lasciamo ognuno faccia le sue considerazioni ora ecco qua addirittura adesso i no vax o no green pass vengono definiti dal Carlino questa mattina i dannati pensate in coda quei dannati dell'antigenico resisto fino a dicembre poi vedo madre e figlia alla comunale centro hanno l'abbonamento in mano per effettuare l'esame 60 euro per 5 prova che vogliono dire 200 euro al mese ma per adesso lo preferiamo al vaccino ecco questi sono i dannati che sono in attesa davanti alla farmacia comunale della statale di pesaro in attesa che la farmacia apra di dannati ne abbiamo visti anche ieri sera come dicevo mi pare che Radio Incontro sulla suo profilo facebook abbia pubblicato qualche fotografia di questi dannati nella notte che aspettavano di poter fare il tampone per fare che cosa per andare poi a lavorare per andare a lavorare per guadagnare i soldi mantenere una famiglia per non fare la fame mentre sulla pagina di Fano del resto del Carlino la notizia è che uno studio di consulenza che è quello di Regnere Associati uno studio tra i più importanti a Fano ha deciso di pagare i tamponi ai dipendenti pago i tamponi ai miei dipendenti questo è il titolo questo studio ha circa 7-8 collaboratori su 76 non vaccinati lui però dice il titolare dice dobbiamo garantire la continuità aziendale e poi ci vuole anche buonsenso lui lo ribadisce io sono stato uno dei primi a vaccinarsi sono a favore della campagna vaccinale e sono per il rispetto delle regole noi lo paghiamo ai non vaccinati perché l'azienda dice ne ha un beneficio ed è la soluzione che rappresenta il minor rischio e il minor costo la spesa potrebbe aggirarsi sui 1500 euro al mese non importa lo smart working ci è costato molto di più questa è la notizia sul Carlino che a pagina 15 invece intervista due ristoratori uno l'abbiamo intervistato anche noi ieri Filippo Ciavarini lo vedete in questa immagine in questa fotografia qui a sinistra lui è il titolare del locale atipico Ciavarini di Novilara e poi Cristian Marinelli che lo stesso abbiamo intervistato tante volte della Quercia il ristorante l'agriturismo la Quercia di Sant'Andrea in Villis ora questi ristoratori il titolo è ristoranti e passe quelli che chiudono un occhio Ciavarini dice dipendenti senza certificato io non caccio nessuno Marinelli invece della Quercia dice non sono vaccinato per coerenza non chiedo nulla e dice io tra l'altro ho Marinelli ho gli anticorpi molto alti per questo ho donato il plasma iperimmune sei volte infatti diverse volte l'abbiamo intervistato proprio per questa particolarità che ha avuto sempre gli anticorpi molto alti e quindi lui per sei volte addirittura è stato chiamato in ospedale per donare il plasma e lui non si è mai tirato indietro e quindi è sempre andato a fare questa donazione mentre Ciavarini insomma Ciavarini anche lui dice cose a mio avviso sacrosante dice io non sono un novax dice Ciavarini se in passato non avessi problemi di salute non avessi avuto problemi di salute mi sarei vaccinato ma siccome sono a rischio trombosi ho scelto di fare i tamponi per lavorare per questo sono aperto solo il fine settimana ma non mi va dice lui non mi va eccolo lì il problema è sempre lì non mi va di costringere i miei ragazzi a pagare per lavorare loro più di tutti sono stati penalizzati dal covid e se avete ancora tempo e voglia di seguire le nostre repliche oggi fino alle 13 e 45 fino alle 14 insomma nel palinsesto troverete del nostro telegiornale nella scaletta troverete l'intervista appunto a Filippo Ciavarini andiamo a Cagli invece perché un diciottenne è stato pestato a sangue in centro una brutale aggressione praticamente di giorno una Y10 che investe il ragazzo scendono due persone che lo picchiano è la dinamica di una spedizione punitiva mistero però sulla causa silenzio dei carabinieri invece sulle indagini poi questa mattina al tribunale di Urbino c'è la terza udienza del processo per quel maledetto colpo di mortaio che il 12 giugno 2018 causò il grave ferimento al viso di Vanessa Malerbi di Lucca una soldatessa oggi trentenne impegnata al poligolo di Carpegna il titolo quell'ambulanza nel posto sbagliato colpita dalle schegge di un colpo di mortaio e oggi si andrà avanti in questo in questo processo mentre una persona che trova una donna che ha trovato una 65enne che ha trovato un bancomat perduto che era stato perso spende tutto tra estetista e massaggi la donna 65enne è stata rintracciata e denunciata dalla polizia per utilizzo in debito della carta di fronte agli investigatori la signora è scoppiata in lacrime e lei ha detto non ho saputo resistere polizia ottoblocca un truffatore invece in flagrante l'altra notizia di Croca sul Carlino di oggi di Pesaro l'uomo era fuggito già riuscito a farsi consegnare dei soldi dalle due vittime sono due persone anziane l'episodio si è verificato in viale 11 febbraio e poi è scattato l'arresto il truffatore è chiaro è il solito amico fasullo del figlio di una coppia di anziani la storia più o meno è sempre la stessa si avvicinano a queste persone povere anziane dicono di conoscere il figlio di essere un amico del figlio e poi lì sono molto abili a intortare come si dice queste povere persone e a farsi consegnare dei soldi soprattutto per aiutare il figlio che in quel momento è in difficoltà eccetera eccetera però questo poliziotto è riuscito in tempo a bloccare questo truffatore quindi adesso se la dovrà vedere insomma con la giustizia intanto buone notizie invece da terre roveresche dove il Corriere Adriatico ci informa che i quattro alunni che sono rimasti contusi mentre scendevano dall'autobus e dallo scuolabus l'altro giorno sono stati dimessi dall'ospedale la cronaca la conoscete insomma il fatto lo conoscete un furgone ha tamponato questo autobus forse ecco con il rosso questo autobus anzi scuolabus mentre era fermo sulla carreggiata proprio per far scendere questi ragazzini a un certo punto ha tamponato e niente una di queste ragazzine una dodicenne finita al Salesi di Ancona con l'eliambulanza ma tutti quanti sono tornati a casa sono tutti sono tutti insomma tranquilli anche se ovviamente lo spavento c'è stato mentre l'autotrasportatore che ha tamponato lo scuolabus subirà la sospensione della patente andiamo a vedere adesso le pagine di Fano ieri c'è stata questa bomba d'acqua come vi dicevo all'inizio della nostra segna stampa intorno alle 14 circa insomma un 14.45 registra il Corriere bomba d'acqua alla città lagata due conducenti soccorsi a Lido i veicoli sono rimasti bloccati in mezzo a un lago violenta grandinata anche se i chicchi fortunatamente e lo dico per gli automobilisti soprattutto erano piccoli quindi non ci sono stati grossi danni Flaminie e angoli urbani invece imbiancati come se davvero avesse nevicato ecco qui per esempio un giardino imbiancato a Lido vedete quanti chicchi con questo effetto tipicamente invernale mentre di qua nel controviale di Viale Cairoli ecco qui praticamente tutto allagato qui ci sono le abitazioni eccole qua ecco questa è un po' una situazione che in realtà esiste da da sempre a Fano è sempre stato così anche in Carlino guardate le fotografie questa di questa mattina ecco la camionetta dei vigili del fuoco e quest'auto che è rimasta praticamente in mezzo all'acqua il solito scenario come scrive il giornale acqua dentro anche all'asilo Galizzi Fanesi l'assessore dice siamo sorpresi non c'era alcuna allerta meteo bastava seguire la rassegna stampa di Fano TV e si capiva benissimo allora parte le battute confronto vero se risfugge basta con le sedute online consiglio comunale le opposizioni chiedono il ritorno alla politica in presenza da sinistra i consiglieri comunali Ilari Scopellitti Mazzanti Pierpaoli Magrini Panaroni e Tarsi che chiedono appunto di poter tornare in presenza non con le sedute online interessante invece questo articolo di Foghetti questa mattina soprattutto per i fanesi che si stanno domandando che cosa accadrà che cosa si farà lì dove un tempo c'era il distributore dell'Agip vicino agli ex carri del carnevale allora l'assessore titolo di stamattina cambia idea per la zona ex Agip Brunori accantona il vivaio e propone un altro progetto ma non ci sarà né un parcheggio né un'area totalmente verde perché dice appunto Barbara Brunori dice ha prevalso l'idea che quell'area non abbia una funzione stanziale ma che costituisca invece un'immagine di passaggio con un leggero sviluppo di verde un nuovo arredo architettonico e un monumento significativo per l'identità cittadina si è deciso anche di non riportare lì la fontana dell'architetto Mario De Renzi che progettò le scuole Corridoni in quanto ormai quella fontana sta bene nel contesto del porto dove si trova ormai da un po' e quindi insomma non si può riportare via però effettivamente ragionandoci un po' non ha tutti i torti nel senso che non me la vedo quell'area dove ci sono tante macchine che passano da tutte le parti eccetera sia un'area nella quale si portano i bambini a passeggio a prendere una boccata d'aria è impossibile è invece una cartolina questo sì potrebbe essere una cartolina e allora ragionate in questi termini tanto vale che sia una bella cartolina e che lasci a tutte le persone ma sono migliaia migliaia degli automobilisti che passano lì perché è la statale tanto vale lasciare una buona impressione della città creando un angolo un angolo bello bello da vedere siate credibili dice invece Don Pier Giorgio Sanchioni questa è la pagina della Val Metauro siate credibili con umanità la politica e anche servizio a un appello del paroco di Tavernelle ai nuovi amministratori lui dice vi ringrazio perché ci mettete la faccia chiedo un impegno Don Pier Giorgio per i beni comuni e soprattutto con onestà andiamo adesso invece sulla pagina di Vallefoglia perché dicevamo scavolini oggi riceverà ci sarà questo riconoscimento nel municipio di Monte Labate alle 18.30 dove tra l'altro ha la sede proprio questa storica azienda la Scavolini sarà cittadino onorario 60 anni di attività che hanno dato lustro chiaramente alla sua azienda e all'intero territorio il comune di Monte Labate questo pomeriggio celebra Walter Scavolini imprenditore pesarese conosciuto in tutta Italia e non solo e l'amministrazione gli conferirà la cittadinanza onoraria durante un'apposita cerimonia che si svolgerà alle 18.30 presso la sala del Consiglio Comunale di Monte Labate da Senigallia buchi addio lavori in centro scatta l'operazione strade sicure manutenzione in corso 2 giugno restyling anche nelle vie armellini bandiera arsilli e pisacane mentre sotto deve fare la revisione della patente però lui è morto lettera della motorizzazione civile a un novantenne deceduto il figlio dice sì ci sono riusciti chiaramente un commento sarcastico Piobbico in lutto invece per Alessandro Ripi Luperti Cordoglio per la scomparsa del discendente dei conti di Rocca Leonella e Montegrino aveva 87 anni ed era molto amato in paese aveva arricchito alcune stanze del castello Brancaleoni con antichi con antichi oggetti i funerali si terranno a Cagli nella giornata di venerdì chiudiamo però ci spostiamo da Piobbico poco più là alziamo gli occhi e andiamo a dare un'occhiata a questa fotografia che ieri stava già facendo il giro dei social sorpresa sul Catria fa capolino la prima neve come già nel 2016 la cima accarezzata da un sottile manto bianco e con questo noi ci salutiamo qui grazie per aver seguito Occhio e Giornali a voi tutti gli auguri di una buona giornata grazie che a